Questa sera abbiamo con noi Roberto Germano, fisico della materia e fondatore e amministratore di Promete SRL. Roberto Germano ha collaborato con Emilio del Giudice, Giuseppe Pepino Vitiello, Elena Napoli e anche Vittorio Elia. E' autore di due saggi, Fusione fredda, Moderna storia ed inquisizione di alchimia e Acqua, l'acqua elettromagnetica e le sue mirabolanti avventure. Ecco il semplice sistemino per estrarre energia elettrica dal calore ambientale. Qui c'è un multimetro che misura la differenza di potenziale ai capi di una resistenza di 47 K. Qui abbiamo il grafico della corrente estratta. Si tratta di 1,57 microampere. Ora accendiamo la lampada IR. Ecco la lampada IR. Vediamo cosa succede nel grafico. La corrente estratta dal sistema sale velocemente, come si può vedere dal grafico. Buonasera Roberto, grazie innanzitutto dell'intervista che fai per Bosco Sacro. Ciao Marco, grazie a te. Una piccola presentazione. Allora, diciamo che il mio lavoro principale è basato sul trasferimento tecnologico che noi portiamo avanti fin dal 1997 con la Promete SRL, che è una spin-off del CNR, una società privata, totalmente privata, una microimpresa che è nata appunto nel 1997, poi nel 99 quando fu un programma spin-off da ricerca in Italia, grazie all'Istituto Nazionale per la Fisica e la Materia, di cui noi facevamo parte, i fondatori della Promete, fummo poi individuati accettati come spin-off dell'INFM, istituto che poi è stato incluso nel CNR. Qui noi collaboriamo attivamente con molti gruppi di ricerca, CNR, Dipartimento di Fisica, Dipartimento di Biologia, Dipartimento di Ingegneria e facciamo consulenza alle aziende, ai gruppi di ricerca. Ecco, proprio su questo tema abbiamo visto un video prima dell'intervista, interessantissimo e vorrei che ci racconti un po' di questo effetto ossido-elettrico. Sì, grazie. Allora, volevo anche dire che un altro saggio anche, ho scritto insieme a Stefano De Falco, della Federico II di Napoli, che riguarda proprio il trasferimento tecnologico, che è proprio, diciamo, tratta questo argomento che è proprio quello del mio lavoro. Per quanto riguarda l'effetto ossido-elettrico, è una cosa che abbiamo battezzato così, l'abbiamo scoperta in Promete, in particolare insieme anche a Vittorio Elia, l'abbiamo brevettata e poi l'abbiamo pubblicata. Fa vedere come, se io metto due elettrodi identici di platino, quindi di un materiale nobile, in acqua bidistillata e creo una asimmetria in una certa quantità di acqua pura bidistillata, malgrado in quest'acqua, come tutti sappiamo, anche un bambino della scuola media mi potrebbe dire questa cosa, non può passare corrente, non può accadere nulla. E invece, quello che noi vediamo e abbiamo brevettato e pubblicato, è che si estrae una corrente elettrica costante, dell'ordine dei microampere, quindi ai capi di un resistore, io misuro una differenza di potenziale che equivale al passaggio di una corrente, che dipende dall'infrarosso, dall'energia infrarossa che incide sul sistema. Quindi abbiamo un sistema semplicissimo che in teoria non dovrebbe non solo estrarre corrente, ma neanche farla passare, se io volessi farla passare all'interno del sistema, non dovrebbe passare, invece io addirittura la estraggo dal sistema e questo è legato proprio alle particolari proprietà dell'acqua liquida. In effetti si tratta di un fenomeno che è molto simile a una cella fotovoltaica che opera grazie al calore ambientale, all'infrarosso, e quindi opera anche di notte, al buio, e opera a livello volumico, quindi non c'è bisogno di una superficie. Stiamo cercando adesso di ingegnerizzare questo sistema e come si è visto nel video, invece della grossa cella controllata, che è quella che è pubblicata, è anche oggetto del brevetto, stiamo realizzando dei piccoli oggetti molto semplici, poco costosi, basati su elettrodi a basso costo e su polimeri a basso costo. No, volevo dire, sicuramente questo è uno dei temi che poi affronteremo nella conferenza che avremo proprio qui in Ticino, probabilmente in Lugano. La domanda che sicuramente ci poniamo è ma come fa a funzionare questo processo che abbiamo visto un video. Sì, infatti, come dicevo prima, qualsiasi ragazzino di scuola media me lo contesterebbe, e infatti ottenere il brevetto è stato abbastanza difficile, comunque poi è stato tutto pubblicato su riviste internazionali, abbiamo anche ottenuto il brevetto depositato. E la cosa è legata proprio al fatto che, mentre nel modello ordinario dell'acqua liquida le molecole d'acqua non hanno una facilità di fornire elettroni, che permettono quindi di ottenere questo tipo di effetti, quello che accade è che l'acqua liquida è molto più complessa di quello che ci si immagina. In particolare si può fare riferimento agli studi teorici effettuati fin dagli anni anni Ottanta da Emilio Del Giudice, Giuliano Preparata e Peppino Vitello, tre fisici teorici di cui i primi due purtroppo ci hanno lasciato e che io ho avuto la fortuna di conoscere, con cui essere amico, collaborare. La cosa interessante è questo, che ogni liquido, in realtà da questi studi di elettrodinamica quantistica, esce fuori che ogni liquido non è un gas, sono costituiti da due fasi, una fase disordinata, che è molto simile a quella della visione che noi abbiamo di un liquido, di un gas denso, è una fase costituita da tanti domini, cosiddetti domini di coerenza, in cui invece le molecole del liquido oscillano fra due stati energetici differenti in maniera spontanea, così come in qualche modo avviene in un laser, in maniera spontanea. E perché nel caso dell'acqua questa particolarità che comunque dà ad ogni liquido una dinamica interna, è anche questa la differenza? Perché nel caso dell'acqua questa cosa è molto importante? È molto importante perché nell'acqua il secondo livello energetico è molto vicino al livello di ionizzazione dell'elettrone. Quindi in pratica gli elettroni nell'acqua sono liquida, sono una grossa quantità di elettronica, sono quasi liberi, ovvero possono, se opportunamente stimolati da una piccola quantità di energia, possono contribuire alla conduzione elettronica. Ecco perché riusciamo a ottenere una sorta di effetto fotoelettrico, una sorta di cella fotovoltaica nell'acqua liquida. Perché abbiamo che in qualche modo l'acqua liquida si comporta un po' come se fosse un semiconduttore. Quindi noi un po' come nel caso delle celle fotovoltaiche abbiamo in pratica creato una asimmetria tra una zona e l'altra di questa sorta di semiconduttore e dando energia, fornendo energia all'esterno, in questo caso nel range dell'intervallo dell'infrarosso, riusciamo a estrarre gli elettroni. Questo è il meccanismo. Ma senza questa spiegazione è chiaro che questo fenomeno sarebbe semplicemente impossibile. Roberto, una domanda proprio ricollegandoci al discorso dell'acqua, così come poi affronteremo una conferenza che avremo qui a Lucano. Come possiamo dare una definizione dell'acqua anche per capire cosa c'è in più rispetto a questa materia che sembra tanto semplice ma è tanto complessa. Sì, in effetti l'acqua appunto, innanzitutto come tutti i liquidi, va vista come una struttura non caotica come un gas, ma con una sua complessità dinamica. Questa complessità dinamica permette di far sì che abbia delle organizzazioni interne e che quindi il suo comportamento dipenda anche dalla storia che ha subito. Un po' come inizialmente la dimensione nanometrica, quindi dell'ordine di miliardesimo di metro. In catene, in strutture filamentose che sembrano quasi organiche e queste strutture filamentose a loro volta si ricollegano in strutture filamentose più grandi e quindi quello che si può notare è che assumono una caratteristica frattale. Intanto è vero che inizialmente poi anche a occhio nudo si vedeva questa caratteristica, come si vede dalle immagini, e l'abbiamo chiamata per scherzo zucchero filato, queste strutture. Queste strutture anche perché sono abbondanti, cioè non stiamo parlando di effetti piccolissimi, a stento misurabili, stiamo parlando di effetti molto grossi, ovvero quello che succede e che è stato sperimentato nei 20 anni passati da Vittorio Elia, all'Università di Napoli, effettivamente dallo stato solido allo stato gassoso, quest'acqua diminuendo la pressione. Quindi si chiama questo processo, si chiama sublimazione. Questa tecnica si chiama leofilizzazione, come tutti sappiamo, si usa anche per il cibo, per non far deteriorare il cibo, ci sono i famosi leofilizzati che si danno anche ai bambini piccoli. Quindi questo è un processo standard e quello che succede è che in sostanza rimane una quantità molto grossa di solido. Sostanzialmente non trovo niente se non idrogeno, ossigeno e poi recentemente abbiamo capito anche un po' di carbonio e tracce di altre cose. Però tutta la massa di questo solido, che cosa è data? È data da idrogeno, ossigeno e un po' di carbonio. E qui si aprono anche le ultime novità, di cui spero avremo modo poi di parlare a Lugano, il fatto che del carbonio entra in questi sistemi, in maniera spontanea. Ma dall'aria? Come fai? Giustamente la domanda è da dove viene questo carbonio? E diciamo da una serie di prove che abbiamo fatto sicuramente proviene dall'atmosfera. Quindi questo apre un mondo, come puoi ben immaginare, sia per la biologia in quanto tale, per capire l'origine delle sostanze organiche, quelle basate sul carbonio, quindi la vita che è basata sul carbonio, come si origini in maniera spontanea, sia per altre questioni ovviamente, perché di interesse, per esempio recentemente si parla molto di poter confinare il carbonio e la CO2 o cose di questo genere, quindi ci sono potenziali applicazioni veramente esplosive in questo tipo di discorsi. Cosa che la natura in realtà, abbiamo scoperto, fa ordinariamente. Cioè noi stiamo parlando di fenomeni in cui noi siamo immersi e stiamo riscoprendo perché noi in qualche modo ci siamo immersi e non li vediamo, un po' come si dice a volte, i pesci non vedono l'acqua. Esatto. Esatto, noi siamo immersi in questo tipo di fenomeni, tanto che abbiamo avuto grossi. Sì, diciamo, questa è un'espressione che è stata generata da un ambito giornalistico fino agli anni Ottanta ed è servita a discreditare un po' gli studi di Jacques Benveniste, che come tutti sappiamo era un famoso biologo francese quasi sulla soglia del premio Nobel per le sue altre ricerche e che poi quando, diciamo, si è scontrato con questa novità scientifica, è stato poi ridicolizzato e le sue ricerche sono state, diciamo, un po' nascoste, messe sotto il tappeto. Ma, diciamo, la cosa che è importante capire è che lo stesso Vittorio Elia è partito nella sua curiosità di chimico dal cercare di capire se davvero l'omeopatia avesse una valenza scientifica, ovvero lui si chiedeva da chimico-fisico se io posso misurare le proprietà chimico-fisiche dell'acqua e se è vero che l'omeopatia è diversa, se fosse vero, dovrei poterlo misurare. Quindi da lì è cominciata la sua attività di scettico. Scettico, come sappiamo, deriva dal greco skeptomai che vuol dire, non vuol dire stare in poltrona e dire di no, e dire non ci credo, vuol dire, in greco vuol dire ricercare, esattamente quello che ha fatto Vittorio Elia. Il suo dubbio lo ha trasformato in un'attività di ricerca, il suo punto interrogativo è trasformato in un'attività di ricerca e invece di non trovare nulla lui ha trovato qualcosa. Quindi è andato avanti e si è scontrato con la realtà sperimentale, in cui ha scoperto che anche nell'acqua omeopatica si notavano quelle differenze di cui abbiamo parlato in maniera generale poco fa. E questo potrebbe far capire una cosa abbastanza eclatante. Spesso, come sappiamo, in omeopatia si usano anche i granuli omeopatici, che sono dei granuli in cui l'acqua liquida non c'è più. Da cosa, come potrebbe essere spiegata questa cosa? Potrebbe essere spiegata proprio dalla presenza di questi aggregati di cui abbiamo parlato poco fa. Perché quello che succede è che questi aggregati nanometrici, in qualche modo, proprio perché nanometrici, si comportano come nuove molecole, con delle caratteristiche specifiche legate alla dimensione della struttura nanometrica. Un po' come avviene, noi sappiamo, la nuova chimica delle strutture nanometriche, no? Perché che succede? Ad esempio, tutti sappiamo che l'oro è giallo, l'oro è color oro. Però se io faccio delle nanoparticelle di oro, avrò che per esempio questa polvere è bianca, oppure addirittura può avere delle fluorescenze particolari in certi specifici range, intervalli di frequenza. E questo dipende dal fatto che la singola nanoparticella ha una struttura elettronica diversa e quindi si comporta come una nuova molecola. E forse questa è la spiegazione dell'omeopatia? C'è qualche probabilità che sia così. Perfetto, Romerdo, un'ultima domanda. Ma c'è un'applicazione industriale di questi studi? Allora, diciamo che oltre all'effetto ossidorelettico di cui abbiamo parlato all'inizio, che è una possibile applicazione, però ancora su cui bisogna investire, diciamo che è un'applicazione abbastanza semplice, è legata proprio al fatto che nelle aziende, tutti sappiamo che in molte aziende ci sono degli impasti. Moltissime aziende hanno nel loro ciclo produttivo degli impasti. Adesso l'impasto non è altro che acqua a contatto con delle superfici. Abbiamo detto che in pratica quest'acqua pura si modifica quando è a contatto con delle superfici e quindi in effetti l'impasto è costituito da acqua con tanti piccoli pezzettini micrometrici di superfici sparsi all'interno. Quindi in realtà l'impasto è qualcosa di più complesso di quello di cui uno ha idea e all'interno avvengono dei fenomeni abbastanza complessi, tra cui anche la strutturazione di questi aggregati di cui parlavamo prima. Quindi diciamo un fatto che non è atteso. Quindi diciamo da questo deriva una certa instabilità di impasti industriali e quindi diciamo anche la possibilità di agire per controllarli in maniera più intelligente tenendo conto di queste novità scientifiche. Questa è una semplice possibilità però molto con grosse potenzialità, d'altronde in generale il fatto che noi iniziamo a capire tutte queste cose dell'acqua, cose che la natura ha ben capito da sempre, è chiaro che ci permetterà di andare verso una chimica industriale pulita, perché gli organismi biologici non fanno come noi che nella chimica industriale abbiamo bisogno di avere il reagente A, B e C, poi dopo usare un sacco di energia termica per avere il reagente D, E e F, di cui però ci serve solo l'F. Quindi gli scarti sono altissimi fondamentalmente in un processo di questo tipo. Sì, quindi in effetti esattamente questo è il problema. Noi non solo utilizziamo un sacco di energia termica che come vediamo bene la natura, di cui la natura non ha bisogno, energie così elevate che poi vengono anche sprecate eccetera, ma si generano anche degli scarti chimici abbondantissimi, cosa che in natura non avviene, specie non riciclabili, no? Se si generano gli scarti in natura comunque sono ovviamente... Immagino per il nostro, per esempio se vediamo il nostro corpo umano rispetto all'energia, ai processi che produciamo, gli scarti sono minimi rispetto a quello che se dovessimo fare lo stesso in un impianto industriale, o mi sbaglio. Esattamente, ma poi tra l'altro una cosa che dobbiamo notare è che noi siamo costituiti, il nostro corpo è costituito in massa dal 70% d'acqua e invece addirittura il numero di molecole, addirittura più del 90% delle molecole del nostro corpo sono molecole di H2O, di acqua. Quindi questo ci fa capire quanto l'acqua sia fondamentale nei singoli. Infatti, tra l'altro, se vediamo bene, una medusa tipica, meno sali che non l'acqua in cui è immersa. Quindi non è che capiamo subito che è proprio l'organizzazione delle molecole d'acqua che è fondamentale negli organismi di H2O. Un'ultima domanda, Roberto, per chiudere. Ritorniamo al discorso dell'omeopatia. Quindi, teoricamente, a fronte degli ultimi studi effettuati, sarebbe anche possibile verificare, a fronte di un farmaco, se ha delle proprietà fisiche quindi valide dal punto di vista l'omeopatico o no? Mi spiego, sarebbe possibile in qualche modo analizzare il farmaco omeopatico a fronte degli studi e quindi dal residuo che lascia? Sì, noi riteniamo di sì. Stiamo facendo qualche studio in questa direzione. Ovviamente, per fare uno studio serio con grossa significatività statistica, per cercare di capire se davvero è possibile distinguere con il nostro approccio tra diversi farmaci omeopatici in maniera scientifica, diciamo con oggettività scientifica, c'è bisogno di uno studio molto più complesso e che va, insomma, in qualche modo supportato e ha bisogno di tempo e di energia. Però c'è questa potenzialità. Ok. Grazie a voi e sicuramente questi pochi accenni che abbiamo dato questa volta, certo, non sono sufficienti per inquadrare, diciamo, tutta la storia. Quindi sicuramente sarà un piacere approfondire lì da voi a l'ultimo. Grazie ancora Roberto, ci vediamo presto e buon 2020. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti.